Grazie a tutti Che si ponga l'obiettivo non di vincere per sé ma di vincere come forse Vigitosa è possibile, dipenderà da voi tutti, da me ma con l'aiuto di tutti voi La grande discriminanza Per conquistare la fiducia della gente i sentimenti tiepidi non basta Ecco io non ho sentimenti tiepidi, spero non li abbiate neppure voi Grazie 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 Grazie